Siamo dove Viale della Pace passa sotto la ferrovia e qui ci segnalano i cittadini, i residenti e le persone che usano questo sottopasso per raggiungere il centro. C'è un grosso problema perché qualcuno va in sella, qualcuno va a piedi e si creano ingorghi anche pericolosi. Siamo venuti a vedere effettivamente cosa succede. I cittadini ci hanno segnalato una situazione che uscilla fra il caotico e il pericoloso nel sottopasso di Viale della Pace che permette di raggiungere il centro del popoloso quartiere San Pio X. Nel sottopasso devono transitare ognuno per la sua strada, autobici e pedoni. Nonostante questo via vai sia regolamentato anche dai segnali, lo scontro è sempre dietro l'angolo. Come confermano anche gli abitanti della zona. Lei fa spesso questo... Io abito qui e quindi qui vicino e la faccio almeno due volte al giorno. È vero che c'è un po' di confusione qualcuno che va in bici, qualcuno che non dovrebbe andare in bici? Allora direi per l'uscita dal quartiere il passaggio è questo e quindi si dovrebbe andare in bici. Però c'è qualche persona che invece di andare da questa parte va da questa parte dove dovrebbe esserci il passaggio pedonale. A conti fatti la situazione è effettivamente pericolosa ma c'è poco da segnalare alle autorità che al massimo possono mandare sul posto qualche divisa che tenga d'occhio il transito nelle ore di punta. Più che altro è una questione di educazione, buon senso e rispetto delle norme. In effetti c'è un po' di confusione perché purtroppo ci sono quelli che si incontrano un pedone invece di fermarsi vanno via dritti e purtroppo lì possono creare anche qualche battibecco e qualche... Quindi diciamo che è semplicemente un problema di buon senso e di educazione alla fine. Esattamente, è solamente un problema di buon senso e di educazione. E quindi? Quindi occhio ai segnali e massimo rispetto per la mobilità debole.